All'allarme cinghiali ora si aggiunge anche quello dei lupi. Un branco composto da circa una decina di esemplari è stato avvistato sulle colline di Atri. Per questo i residenti preoccupati hanno avvisato il comune. Alcuni mesi fa un pastore aveva trovato diverse pecore del suo greggio e morte dopo essere state sbranate nei pressi della piscina comunale. Un fenomeno su cui col diretti lancia l'ennesimo appello visto che oramai gli avvistamenti di lupi e cinghiali sono frequentissimi anche nelle zone vicine al mare. Il problema di questi lupi oggi che sono sempre in presenza più massiccia ormai già negli ultimi anni sono branchi sempre più numerosi che riescono a eludere anche le uniche due armi che noi abbiamo di protezione negli allevamenti che è il recinto elettrico e i cani. Loro oramai sono così numerosi che riescono a eludere queste due forme di protezione che abbiamo. Infatti nel caso di Atri sono entrati all'interno del recinto e hanno ucciso diversi animali tra pecore e agnellini. Col diretti è stimato che in Abruzzo sono presenti oltre 100.000 cinghiali e teme che poiché questi ungulati possono raggiungere i 180 cm di lunghezza e i due quintali di peso e hanno zanne che in alcuni casi arrivano fino a 30 cm possono causare la morte sia di uomini che di altri animali e questa massiccia presenza sta facendo spostare e proliferare anche i lupi. Nei vari convegni, incontri che abbiamo fatto, nei vari tavoli c'è sempre stato detto che il lupo serve da regolatore sui cinghiali. E' chiaro che oggi il fenomeno dei cinghiali è ormai fuori controllo e purtroppo crescendo così in forma massiccia i cinghiali in automatico questi branchi aumentano sempre di più. Oggi la problematica per l'allevatore che negli ultimi anni già è difficile come tipo di lavoro resistere per i vari problemi che abbiamo e poi si aggiunge anche questo del lupo perché questi allevatori sono risarciti all'interno del parco ma come abbiamo ben visto negli ultimi giorni sia i cinghiali che i lupi sono ormai fino al mare. Gli allevatori che subiscono danni non vengono risarciti nel modo eco quindi questo aggiunge oltre al danno anche la beffa per loro.